rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di nico in game dunque abbiamo fatto l'autopsia al corpo di nettingale che improvvisamente si è risvegliato ha ucciso diversi poliziotti lo sceriffo è scomparso è successo un casino ragazzi ed è scomparso anche nettingale quindi adesso dobbiamo cercarlo siamo tornati qui ma soprattutto dobbiamo capire che fino a fatto lo sceriffo stiamo anche trovando diverse pagine del racconto di Alan Wake perché come ben sapete quello che Alan Wake scrive si manifesta allora io mi farei anche un giretto qua eh non si sa mai anche se penso che questa via ci riconduca sia la macchina però sappiamo abbiamo capito che ci sono oggetti da raccogliere e indizi sparsi oh scusi un po' ovunque quindi ogni tanto conviene percorrere qualche sentiero alternativo guardate che panorama guardate che panorama Allora qua ci siamo già passati Salve Penso di sì Esatto, siamo qui per l'omicidio, è una brutta storia, sì Oh magari fuori servizio Ma che cos'è questa macchina? Questa struttura? Una stazione di monitoraggio Volcanic activity and air toxicity levels, no need to worry though, it's mostly for research purposes That's one gorgeous sweater saga, looks Nordic, I bet a family member made it My mother made this sweater for me, how do you know? I knew it, my mom used to knit those sweaters for me and my brother Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too Suomi, Finland, Ulla, karri elambita Close, my mom's family is from Sweden originally I don't know much about them beyond that The sweater is just something to remember her by Steven, we're investigating a murder that occurred nearby What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid But I don't know anything about a murder Operations here are run by a different department I'm just here to make some repairs The wiring on this thing frays every couple months Yep, that's the raccoons They grow real big here with teeth like you wouldn't believe Can't know a run through a garbage can Ok, we're done for now Ok, grazie What the hell is this? There's Steven Chiarisigni di manomissione Il segnale è stato reindirizzato a un trasmettitore non nostro Ho fatto in modo che gli avvisi arrivino a noi Ma non c'è dubbio che sia preoccupante Compilerò un rapporto per il dipartimento indagini Lascio questi appunti nel caso in cui altri dovessero occuparsi delle riparazioni Se stai leggendo controlla se c'è stata manomissione Forse sarebbe meglio mettere tutto intorno Una copertura metallica più sicura In modo da impedire ai proccioni di fare danni Andiamo Andiamo I don't get the feeling Nightingale was responsabile Hmm, he was about to give you more of those pages Something didn't want us to have them Or was protecting him from Nightingale Spontaneous combustion, I don't know Not the kind of disappearance we normally saw Si Si Ah, ci sono delle tracce Attenzione ragazzi Um 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 Segui i passaggi Lavati le mani Tira fuori il pollo dal frigo Fai un pisolino Lavati le mani Tira fuori il pollo dal frigo Fai un pisolino Sì ci sono diversi simboli Lavati le mani A questo Due triangoli Proviamo Ok Non prendere niente se non sei degli alberi Se non sei uno degli alberi Ah Io invece piglio tutto Controlliamo bene anche dentro la casuppola Hey there mister dear You remind me of a dream I had Ammazza Però vabbè Ho visto qualcosa da leggere qua Cari intrusi voglio darvi un avvertimento Dicono che il lago sia una caldera Qualcosa formato da un vulcano in eruzione O dalle voragini create da esso Ma se non fosse così Se fosse qualcos'altro Qualcosa di meno naturale Più artificiale D'intenzionale Io dico che il lago Non si è formato Ma è stato progettato E che ha uno scopo Il lago è nascondiglio Sotto la superficie Calma c'è un macchinario segreto Pronto a essere attivato Alla pressione di un pulsante E chi ha accesso al pulsante Si trova in quella grossa Casa vicino al lago E si prepara Lo sento Primo disegno Linea di galleggiamento Alla vera caldera È creata da un vulcano Lava Secondo disegno Linea di galleggiamento Stuttura attrezzata Strani macchinari Allora qua non c'è altro Non credo eh Non credo ci sia altro È un'altra Eh, ok. Niente. Vabbè, seguiamo le tracce, ragazze. A questo punto non dobbiamo seguire le tracce. Sì, ma questo è diverso. C'è un'unica modo per evitare lui da perdere a qualcuno altro. Monsters? Overlaps? Rituals? C'è quello che hai fatto di tutto questo? La uccideri sono normalmente quelli che faccio il ritual, non la deteccazione. Faccio il loro fantasi. C'è probabilmente cercano di prendere a te iniziando, forciando a te iniziare in un mondo di loro. Sì, è solo che mi sono perso le tracce ragazzi, erano qua, da questo lato, sì. Ok, vanno per di là. C'è tanto da spippolare? Magari troviamo qualcosa di utile. Questa è chiusa. Leonidi, qualche attività sospetta rilevata. Alla sentinella è sembrato di vedere dei movimenti tra i cespugli, c'erano delle impronte in zona, ma alcune sono state compromesse dalla sentinella. Nota per me stesso, ad estrarre la sentinella. Martedì, niente da segnalare. Qualche animale normale. Mercoledì, cacciature in giro dopo il tramonto, braconiero, sentito qualche sparo. Non era uno dei nostri, meglio tenere d'occhio questa gente, non si rende conto del guaio in cui si sta cacciando. Apparentemente non c'è niente qua. Il faro, il lampione è una zona sicura, ragazzi, eh. Il lampione è una zona sicura, sicuramente dovremmo passarci dopo, perché le tracce conducono per di qua. Il lampione è una zona sicura, ragazzi, è una zona sicura, ragazzi, è una zona sicura. Porca troia! Il lampione è una zona sicura, ragazzi, è una zona sicura, ragazzi, è una zona sicura, ragazzi, è una zona sicura. Collega, dove stai? Dove stai? Ma dove è andato, ragazzi? Non c'è alcun misterio a Condor Lake, così è chiamato, ragazzi, 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 ragazzi. Il locale non sono stati corrisposti, egli accusò la dama in questione di averlo stregato. La donna fu affogata, ma dal suo mestolo nacque uno strano albero chiamato... La donna tornava a vendicarsi, ma non era una strega prima, lo era adesso. Uccise lo sceriffo negandolo nel lago, quindi gli strappò il cuore e lo chiusi in una scatola. Con il cuore lo avrebbe evocato dal lago per compiere il suo volere. O così narra la leggenda. Puoi attivare il potenzialmente della torcia... Ma non c'è... ok perché non mi sento tranquillo stiamo tornando indietro sì dovrei andare qua ragazzi però non è sicuro non mi sento Allora, veloce 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 facciamo questo ragazzi. Al prossimo stop, Caldera Street Station. La scuola, come una ruota, lede a Nightingale. È iniziato a un bosco, che è ladle. Nightingale è andato in un altro luogo attraversando l'albero. Ok. E questo l'abbiamo capito. Ecco. È dentro una sovrapposizione. Orme diretto verso la foresta. Il fusibile era al suo posto, l'avevo trovato nella foresta. Una luce intensa. La luce intensa fornisce protezione. Tieni gli occhi aperti per altri posti come questo. Qui non si passa eh. No. Cerchiamo sto fusibile ragazzi. Io... Uh. Sia attento eh. Stia attento eh. Sia attento eh. La pagina descrive il hut essere aperto. E ha incontrato una fusa. Eh ma il fusibile è molto pesta. Giassolato. Sia attento né. Sia attento eh. Sia attenz hè. Sia attento eh. Sia attento eh. Sia attento eh. Ma qui secondo me stiamo tornando indietro Scusate Sì la mappa ci segna i punti di interesse Quindi Converrebbe tornare indietro E seguire i punti di interesse che ci indica la mappa Eh ma se no non è fusibile mi attacco Ok uno l'abbiamo trovato ma non funziona Bene Siamo vicini eh me lo sento Venerdì Oggi Mead mi ha detto Che la sua famiglia se ne va Cavolo Non gli ho ancora neanche detto che mi piace Ormai a che serve Ha detto che i suoi genitori vogliono cercare dei lavori migliori E mandarla in una scuola migliore In una grande città Direi che ha senso Che vuole restare nella stupida Bragg Falls Domenica Gliel'ho detto ma mi ha risposto grazie Vaffanculo Lunedì Stanotte sono uscito ancora di nascosto Sono andato alla grande casa vicino al lago Invece di guardarla da qui come faccio sempre Invece di restare con le mani in mano come sempre Al diavolo Comunque Lì dentro succede qualcosa di strano Voglio scoprire la cosa Ci tornerò domani con un'attrezzatura migliore Scommetto che Riesco a trovare il modo di entrare E fare quello E fare qualche foto Sarà epico Ok abbiamo trovato il fusibile Zitti Io stavo girando come un deficiente Da tutt'altra parte Ma in realtà Era qui a due passi Ho un altro frammento So che a volte qui la situazione si fa difficile Ma se dovessi avere paura Ricordati che Alan Veglia su di noi La sala relax è un luogo in cui puoi salvare i progressi Quindi salvataggio rapido Salvataggio manuale Saga addressed the witch The smudged line on the heart The second part recited from memory I brought you the heart witch Show me the terror Saga pushed the heart through the hole in the sign Allora E subito Tabellone dal caso Dov'è il cuore? Dov'è il cuore? Questo non lo posso ammettere ragazzi Qua? Sì Dare il cuore a strega Recitare parole Strega cartello Ok Dobbiamo seguire il rituale I need Nightingale's heart To get to the overlap Where is it? The cultist leaned close He was there But he was risen Nightingale Was there The opposite of sunspots Who said that? That's not it I don't have what I need To find Nightingale's heart There must be more Nightingale's heart Where is it? Once in a while They played cards in the general store The witch had stolen his heart Get out of my house Nightingale's heart is at the general store In a fridge È all'emporio Allora salviamo Vai Ricordo di salvare spesso Non sparire anche tu eh Mi raccomando Minchia Cazzo Attiva il potenziamento Dalla torcia Per perforare L'oscurità Che circonde Nemici Tosto ragazzi eh Usare gli antidororifici Ti permette di curarti Ma non ne ho bisogno O si Ecco il cuore Dall'altro Dall'altro lato dello specchio L'onda si In franze Con furore Controlla Controlla Dea bendata Alla cassa Controllare con Dea bendata Alla cassa No Questo lo voglio Ragazzi Ma il fucile Ma veramente Alla cassa Qua Lettura Dalla mano E sfera Di cristallo Interpretazione Dei sogni 705 713 705 713 Allora Tutti questi codici Sono sbarrati Ragazzi Quindi non vanno bene E tutti iniziano con il numero 7 Il lotto 705 713 717 723 Quindi quello successivo dovrebbe essere 739 Quello giusto Proviamo 713 713 Si Ok Può segnare le armi e gli slot rapidi Questo lo sappiamo Mettiamo qui Non abbiamo munizioni però Un'altra pagina Qui non c'è niente Il cuore è conservato in un frigorifero Il cuore era in un frigorifero All'emporio abbandonato Chi ce l'ha messo? Le parole dall'altro lato dello specchio Londra si infranse con furore Ti ho portato il cuore strega Mostrami il terrore Posizioni il cuore nel cartello della strega Casi Casi Ci sono occulti in l'area Ci sono stati Come Nightingale Si guardatevi Sì, grazie per la visione Io ancora trovo Aggiungo il cammino Tu hai la più sensazione di direzione In ogni città in America Se riesco a tornare indietro Magari Perché adesso Il cartello Credo di aver capito Di quale cartello si tratta Non è questo? Ah no È l'altro Dove siamo passati Seguendo le tracce Per di qua Ah no Grazie a tutti. E' andata via anche la luce. E' questo il cartello ragazzi, vai. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Fuck me. Entriamo. Entriamo. Ebbè, perché fino adesso che abbiamo fatto? Logan? Logan? Mom, help! Logan! Where are you? Allora ragazzi, io mi fermerai qui. Sì. Siamo in una situazione delicata, però si è fatta lunghetta, quindi io mi fermerai qui con questo episodio. Voi come sempre fatemi sperare alla vostra, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale sempre se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.